però insomma onore anche alla Bagnarese è stata una partita difficile. Difficilissima, difficilissima anche perché è un peccato assegnare l'unico posto disponibile in eccellenza con uno spareggio del genere. La Bagnarese meritava tanto quanto noi per quello che ha fatto e per la semifinale e la finale che ha vinto nel proprio Girono. Quindi quando arrivi a disputare uno spareggio per l'unico posto ci rimani sempre un po' male. Quattro anni fa mi capitò la stessa cosa, il catalano in mezzo al campo lo vinse e io tornai a casa un po' deluso, deluso perché non si può assegnare tramite uno spareggio l'unico posto disponibile. Dispiace perché loro, una signora squadra che ha ben fatto nel campionato battere la Rizziconese eccetera non era semplice. Noi la stessa cosa dall'altra parte, siamo stati fortunati. Una gara difficile, sicuramente non bella, quindi anche da commentare è stata difficile perché quando la posta in palio è così alta, l'accesso alla categoria superiore, giocarla. L'abbiamo sbloccato, la fatica, il fatto del campo in erba, tutte e due squadre non erano pronte per giocare. Un episodio l'ha sbloccata e poi è diventato un po' più semplice. Complimenti a te per questo bellissimo campionato e questo spareggio che hai portato a casa. Adesso ti aspetteranno sicuramente a Scalea e poi insomma... Quali saranno i programmi? Dimmi, adesso cioè in linea di massima cosa vorresti tu? 5-10 giorni di sintossicazione totale, nel senso basta calcio, è stata un rincorrere. Siamo stati bravi dal punto di vista fisico, infatti devo fare i complimenti al preparatore Angelo Forestieri e al mister dei portieri. Noi allenatori siamo sempre in prima linea, là davanti, ma il merito è di tutti quanti perché loro hanno lavorato e hanno lavorato tanto durante l'anno anche per via di alcune mie assenze per motivi lavorativi e loro sempre lì, un lavoro certosino, a far svolgere la seduta. È un lavoro di staff, è un lavoro di gruppo coeso, quindi adesso ci riposiamo un pochetto, poi vedremo se ci sono le condizioni, quello che sarà. Intanto andiamo a goderci la festa con i tifosi. La dirigenza cosa pensi? Saranno presenti, sono presenti, vorranno andare avanti con questo scalea come ha fatto in questi ultimi campionati, ripercorrere quello che ha fatto Rovito, insomma questo è stato quello che ha fatto lo scalea in questi ultimi anni. Noi siamo contenti di una cosa, che siamo riusciti a far ritornare un po' di voglia e a riportare un po' di gente al campo. Avere i tifosi al seguito la volta scorsa in trasferta a Cutro con lo spareggio col Torretto, questa è la più grande soddisfazione. Ritornare lì e sapere che adesso ci stanno aspettando per festeggiarci, loro che erano apatici, distanti, lontani dallo scalea calcio, questa è la più grossa soddisfazione. Poi per tutto il resto c'è il tempo per discutere. Grazie, grazie a Gigi Carnevale, complimenti.